E bentornati con i nostri consueti approfondimenti qui per la medicina regione Lazio dove ospitiamo ogni volta chiacchierando insieme a professionisti di vario genere, dottori, medici, nei settori sanitari o meno. Oggi siamo in compagnia del nostro ospite dottore e professore chirurgo plastico il dottor Domenico Ritano. Salve, bentrovato. Grazie, grazie dell'invito. Sono molto contento di stare con voi. La chiacchierata mi sa che andrà molto bene perché già il presentatore ci sembra molto molto simpatico. Quindi questo è pure importante. Di questo la ringrazio veramente tanto. Anzi, questo aiuta veramente a prenderla in discesa. Assolutamente. Grazie veramente dottore per essere venuto nei nostri studi e come dicevo appunto oggi faremo un focus parlando di quello che è un po' l'iter di un chirurgo plastico. Ecco, ci porti lei all'interno del suo mondo? È una bella domanda perché praticamente parliamo sempre di che cosa viene fatto, il pre, il post e quanto costa. Queste sono le domande più banali che si fanno sempre. Avrei la possibilità di spiegare cos'è il lavoro del chirurgo è veramente una cosa interessante. Il chirurgo plastico viene visto sempre come una persona che fa business e basta. Noi dobbiamo considerare che il chirurgo plastico è un medico, quindi si comporta da tale medico e quindi si presume che lui dia sempre quei consigli che sono più idonei ad avere dei risultati e che danno insieme un discorso di salute anche. È vero che parliamo di bellezza, è vero che parliamo di ringiovanimento, tant'è vero che noi distinguiamo come chirurghi plastici le due grandi categorie. Una che è quella del ringiovanimento, quindi persone che col passare dell'età vogliono mantenere un aspetto più giovanile e un'altra è quella dell'abbellimento, cioè quei cambiamenti che ti portano ad avere un atteggiamento di cambiamento proprio per cui alcune zone del corpo che non piacciono vanno modificate. Per quanto riguarda l'abbellimento, io considero che debba essere fatto in giovane età, cioè nel senso quando la persona già si inizia a approcciare, non parlo dei 15 anni, in giovane età parlo dopo i 20, 19, 20, 25, cioè quell'età ancora in cui le persone si stanno formando nella loro poi esposizione a livello di lavoro, a livello di studio, a livello di altro, quindi praticamente è una fase in cui un cambiamento ancora è quello che potrà viverlo tranquillamente tutta la vita, questo cambiamento. Quindi può essere una rinoplastica per cambiare un naso che magari non è estremamente piacevole o altro che in qualche modo porta a un'oggettività di bellezza. Il concetto di bellezza è che cos'è? La bellezza è l'armonia delle varie forme che sono presenti all'interno di un viso o di un corpo, quindi quando queste sono armoniche tra di loro si parla di un aspetto gradevole, un aspetto bello, il bello è questo, è un'armonia tra le varie forme, tanto è vero che un naso che può essere estremamente molto imponente, importante in un volto e quindi risultare anche sgradevole alla vista, si può integrare bene in un volto magari più grande, magari più lungo, se il naso è un pochettino più lungo, quindi praticamente non è un concetto del naso in assoluto che è bello quello o quell'altro, come si incastona all'interno, così come anche il seno, se un seno piccino sta in un corpo di una persona non molto alta, con delle spalle non estremamente sviluppate, qua là ci sta bene, un seno piccolo di una persona alta 1,85 naturalmente si vede un po' più la differenza, quindi il concetto è riportare, per quanto riguarda la mia filosofia, è quella di riportare una persona in un concetto di estetica riguardante il proprio corpo o il proprio viso. Un concetto di armonia, ecco dottore. Esattamente, invece il concetto è ringiovanimento e sono le persone che hanno superato, come me peraltro, una certa età. Se sì, da pochissimo, guardi. E quindi praticamente in questa situazione che cosa si vuole? Si vuole mantenere un po' quella che era anche la bellezza della gioventù, e quindi sono altri tipi di interventi. Allora, qui parliamo, per esempio, del caso del volto, del lifting, della blefroplastica. Il lifting viene un po' demonizzato. Se uno parla del lifting sembra quasi che se no, io questo no. È il tentativo di evitare un intervento che poi per me è il più bello che esiste, perché a scapito di cicatrici molto molto poco evidenti, dà dei risultati eccellenti, quindi è uno degli interventi che secondo me... Il lifting? Il lifting. Cos'è che significa il lifting? La parola lift è, in inglese, vuol dire sollevare, quindi è riportare i tessuti che sono in qualche modo andati verso il basso col passare degli anni, riportarlo verso l'alto. Noi facciamo un... C'è un'esperienza che devo raccontare, perché io ho vissuto per tanti anni in Brasile, non sono andato un giorno così al volo e poi tornare... No, ci ho vissuto per tanti anni. E quindi ho accompagnato professionisti e situazioni, perché in Brasile arrivavamo a fare il terzo lifting a 85 anni, cioè persone che ancora continuavano ad avere questa voglia di rimanere giovani, quasi proprio immortali, e noi ci siamo divertiti anche a fare questo. O addirittura lifting a persone di 36-37 anni, che secondo me è un'esagerazione. però affrontato in un modo sereno, come si vive in quella terra questa specialità, è anche piacevole, cioè non c'è quell'angoscia di dire oddio se non faccio questo intervento, non posso vivere. Lo vivono un po' come andare quasi a farsi dei capelli, un taglio particolare di capelli. Ovviamente poi è sempre il rapporto a sé, cioè se la persona stessa, il soggetto o paziente in questione, è poi il riflesso che ha tra sé e sé appunto dell'intervento o di non farlo. Esatto. Bisogna essere però molto, e questo è l'aspetto che mi contraddistingue, medici. Cioè, se quella cosa è vista come un cambiamento talmente personale che non è oggettivamente riconoscibile, io evito. Perché un atteggiamento che in quel momento può essere dalla paziente visto come la soluzione anche dal volta di altri problemi, porta poi alla fine ad avere un risultato che non è oggettivamente bello, diciamo, usiamo questa parola. E quindi che cosa succede? Che potrebbe la paziente non riconoscersi nemmeno in quello che lei pensava fosse il miglioramento che ci potesse essere, eccetera, con dei problemi che poi si rifletterebbero anche sul chirurgo perché in effetti quello che è avvenuto è stata una trasformazione che può anche non essere corretta, ma quindi richiesta esclusivamente dal paziente. Nel mio caso io preferisco riportare delle situazioni oggettivamente belle. Cioè che se le vediamo un numero importante di persone, diciamo, sì in effetti ha avuto un miglioramento o non l'ha avuto. Non tanto sul personale. Il personale è molto complicato nel nostro lavoro perché spesso si ricorre al nostro lavoro esclusivamente per delle situazioni che non sono proprio legate alla persona ma sono legate alle contingenze. Una separazione, un lutto o altre cose possono determinare delle voglie di cambiamenti che fin quando rientrano in un'oggettività di risultato vanno bene, cioè possono anche aiutare. Il problema è quando quella trasformazione serve per ottenere altre cose e questo non avviene. Ecco, infatti dottore, quello che poi parlando prima all'inizio, no parlavamo appunto chirurgia plastica e ha detto bene lei che spesso è vista come un intervento nettamente e prettamente estetico però tendiamo, soprattutto voi ovviamente, ma in questo nostro focus a sottolineare come prevale sempre e antepone ogni altro ragionamento, quello della salute, del benessere e soprattutto di una armonia del corpo stesso. Ecco, le chiedo però perché le sarà capitato, immagino. Ho detto di no. Ecco. Ho capito la domanda perché è una delle domande. Una sottile linea di differenza tra... Se questo risultato non viene visto dalla mia persona, io parlo esclusivamente sempre del mio modo di approcciarmi a questa specialità, come un atto che può veramente dare un risultato perché il problema è reale, evito. Evito, consiglio di non fare quell'intervento perché l'idea che la paziente ha in testa magari non è quella che tu riesci poi in qualche modo ad esaudire, per cui tante volte è solo un discorso, facciamo un intervento, ma è un tentativo secondo me non corretto e quindi spiegarlo al paziente che deve naturalmente capirlo, se no va da un altro magari si fa convincere più facilmente di me. A me ci piace molto questo. E poi ecco, l'ultimissima cosa che vorrei chiederle, ovviamente sempre il canone concetto di armonia o bellezza, seppur oggettiva, è comunque legato a un discorso sociale, nel senso, ovviamente prendiamo ad esempio i glutei nelle donne, sappiamo come magari in una parte più africana o anche in gran parte dell'America, la donna con i glutei grandi e questo è anche un canone di bellezza positivo che magari qui da noi non è lo stesso. Esatto, quindi devi anche integrarlo nel paese un po' dove vivo, nella caratteristica della razza dove tu ti trovi. Tornando un po' al discorso del lifting, per spiegarti qual è il concetto che talvolta fanno alcuni pazienti, diciamo, tendono per evitare il concetto del lifting, quindi dell'intervento, parlando di quello ma vale per tanti altri campi, cosa fanno? Si fa delle infiltrazioni per distendere il viso e quindi eliminare questa pelle in eccesso che col passare del tempo, specialmente dopo dei dimagrimenti e col passare un po' degli anni, va verso il basso, quindi segue l'angolo della mandibola e cade e scende giù. Teme la gravità. Esatto, alcune volte tante gravità. E allora lì, cosa succede? Scusi, ma questo è il tanto nominato Botox? No, col Botox stiamo risolvendo una parte dell'intervento che noi facevamo, specialmente nella terra dove ho detto che ho vissuto, facevamo degli interventi molto complessi in cui veniva anche tirata sulla parte della fronte con delle incisioni sul muscolo e una trazione superiore per distendere la fronte. Diciamo che l'uso del botolino ci sta portando a diminuire queste cicatrici così importanti anche nel cuoio capelluto e il botolino per risolvere il problema delle rughe della fronte e delle peri oculari ci può anche stare come novità. Quello che non ci sta è l'inserimento di materiali all'interno del viso, sotto cute eccetera per distendere le rughe che comporta solo che cosa? Che il paziente diventa un'altra persona perché praticamente non è più un sollevare ma è un gonfiare per distendere. Il gonfiare per distendere modifica quella che è la caratteristica del viso di quella persona per cui questi sono molte volte gli errori che vengono fatti quando c'è questo atteggiamento di dire non faccio un intervento perché quella cosa posso fare? Facciamo iniezioni, iniettivi, lo stesso vale un po' per la rinoplastica, il rinofiller per alcune cose e piccole modifiche ci sta ma per fare un intervento dove c'è un eccesso di gobba parlando del dorso del naso e tu riempi sopra e sotto per dare una linea retta anziché questa piccola gobba stai solo modificando tutto il naso e questo non va bene quindi bisogna essere molto attenti a non... quando si parla di chirurgia e io parlo di chirurgia ne parlo perché so che va fatta quando do delle alternative e le do perché queste alternative danno dei risultati ugualmente belli e non deformano quindi è importante avere a che fare anche con un chirurgo che ha una visione più ampia io faccio sia la parte della micinestetica quando serve e sia la parte della chirurgia plastica quindi ho la possibilità di dare il consiglio migliore non sono né solo uno che fa infiltrazioni per cui tendo a sopperire alcuni tipi di interventi con l'infiltrazione né uno che non ha un'apertura verso anche una parte importante della medicina estetica quindi riesco a unire le due specialità che in qualche modo mi permettono di scegliere la cosa migliore ho più armi diciamo nella mia... anche per esprimere un giudizio più razionale no ovviamente poi la cosa bella è se tu hai la coscienza del tuo lavoro di spiegare al paziente veramente cioè farlo ragionare cioè non è un discorso di vieni allora io faccio questo e non parli col paziente perché tu sei quello che decide fino a un certo punto va bene cioè tu devi essere fermo su quello che stai vedendo e decidere ma devi far arrivare il paziente che spesso è più intelligente di altri che hanno solamente questa smania di fare intervento il paziente intelligente riesce a capire quello che tu stai proponendo perché non è un interesse personale nel vendere un prodotto ma è un interesse personale di mandare una persona felice in più in giro e di questo veramente siamo pienamente d'accordo io dottore veramente la ringrazio tantissimo per l'intervento fatto dai nostri microfoni ma soprattutto nella modalità con cui ha concesso tutto questo insomma con questo carisma si vede che mi piace il mio lavoro si è una persona molto carismatica di questo la ringrazio tantissimo ricordiamo a tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato e seguito il dottor Domenico Ritano con studio in via Tommaso Gulli 3 questa che zona è dottore? zona Prati è una traversiva alle Mazzini quindi diciamo è una zona abbastanza centrale abbiamo anche delle belle sale operatorie quindi è stata una grande fatica a fare tutto questo però ci dà molte molte soddisfazioni quindi di poter fare tanta roba in casa ricordiamo ovviamente lo studio Domi Medica vi lasciamo riferimenti all'omonimo nome domimedica.it il sito web Domi Medica su Instagram, Facebook o addirittura il canale Youtube del professore quindi Domenico Ritano nome e cognome domritano chiocciolagmail.com la mail di contatto oppure 063203838 mi perdo io perché ci vedo poco a sinistra dottore allora te lo posso leggere io? con molta cortesia grazie 06 Roma quindi 3203838 che è più facile da memorizzare ovviamente sempre sui consigli che vanno non sono un nome di pubblicità però voglio dire quando serve riesco pure io a dire la mia grazie mille per l'intervento dottore grazie a te Paolo grazie grazie a tutti